Cultura per me è tradizione, per me che è un tradizione è un costumbre, è un costumbre che si tratta di quella, per la mamma, per io, per il niente, e così via. Poi ci sono un regalo, in modo da vivere, in modo da vivere, in modo da vivere, e non necessariamente messo il idioma, però il idioma è una parte più grande di una cultura, ma più oltre come ho spiegato a me, come passare un buon giorno, come comunicare l'amore. Tu sei un portaparte di una cultura, e è importante che una vez che è una tradizione, una vez che ci sono una parte di una cultura, è una parte di una vita. La vita è una parte di una identità e è qualcosa che ci si tratta di un paese, una parte che è una parte di una vita, è una parte di un paese, non importa il paese, e è qualcosa che è la di un paese, un paese che si tratta di una vita di una vita, che lo stacco in una vita e una cosa che è un regalo per comparte questo, anche dopo. di com' la cultura è importante? La cultura è importante perché è donato il valore e l'identità di un mess, di un altro tipo, è donato l'idea e il sentimento di accepterlo in un gruppo, in una comunità e la cultura è per creare un hobby bonito in un mondo come bello. E' qualcosa per comparte facilmente con altre persone, per expresare mesi in una certa forma e per mirare la necessità di portare il valore di un' cultura per portare un' continuazione e un'herenzia culturale. E' la cultura è un motivo per creare una piattaforma per arrivare facilmente in un'artista. In un'artista è un'artista, ma non è un'artista, ma non è un'artista. E' un'artista, ma non è un'artista, ma non è un'artista. E' un'artista è un'artista, ma non è un'artista. E' un'artista, ma non è un'artista. E' un'artista è un'artista che le faccio utente attraverso lo che so ricordo. I pesemi da poi a Go Cultura.